Ciao chi? Sì, grazie Presidente. Noi con questo emendamento chiediamo semplicemente di inserire il riferimento alla gratuità dell'acqua perché se si vuole arrivare ad una riforma seria e dare sostanza a questo testo di legge tutta l'acqua potabile per i servizi igienico-sanitari deve o dovrebbe essere gratuita. Altrimenti il presente testo diventa completamente inutile, pieno di belle parole, magari animato da buoni propositi che ripetono però concetti già previsti anche in altre leggi e in altre norme. Quindi chiediamo all'Aula di poter convergere su questa nostra proposta emendativa che ci sembra andare incontro a un principio elementare che è quello di garantire la gratuità dell'acqua sia per l'acqua potabile sia quella per i servizi igienico-sanitari. Grazie onorevole Rondini, non ho altri interventi quindi lo pongo in votazione con il parere contrario di Commissione Governo, contrario della Commissione Bilancio, favorevole relatore Lega Nord, la votazione è aperta. Archi Alberti e Grassi Cozzolino Ci siamo Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge Siamo al 2.55 Rondini Onorevole Caparini, prego Grazie Grazie